Ti rendi conto quanta gente che mangia quest'anno? In più! vai del lavoro! Balla quanti! Balla quanti! E questi le mangiano tutti a spese nostre Io se ne prendo uno a caso Questo qua Lorenzi Carlo Lorenzi Carlo Il che fa? Deputato! Che cazzo di lavoro è? il deputato, dovrebbe fare gratis, tipo il prete, e poi però per mantenerti tu vai a lavorare, perché questo Lorenzi caga, e si caga a noi, e questo è il mandato di tutta puttana l'Italia, tutta questa roba qui, tutta questa gente, io da bambino, io ho sempre sentito tutti i bambini, ma anche io, ognuno è stato bambino, dal grande voglio fare il dottore, dal grande voglio fare il pompiere, dal grande voglio fare l'azionato, io non mi ho sentito dire un bambino, dal grande voglio fare il senatore a vita, che mestiere è?